Allora, a questo passaggio... Aspetta, non si sta spaventando mai, non si è nobile. No, aspetta, ci stanno altri cartelli, che c'è scritto qua? Grazie Fiorella per averci insegnato ad amare un po' di più. Sono messo in spiocco. E' un mostro così. E' un mostro che si sta spaventando. Aspetta. No, aspetta, me lo metto dopo, dai. Sennò cominciamo a fare la vestizione davanti a tutti e non lo metto. No, no, basta, caro, c'è tutto così. E' un'altra cosa. Grazie. E' un'altra cosa. Ho cercato me stessa in altri sguardi e ho trovato il tuo. Io mi parto a fianco a te. E io a fianco. Grazie. Adesso comunque, va bene, insomma, questo si è staccato, ma adesso lo rimettiamo a posto. C'è tutto quel rito adesso per cui io esco, voi chiamate e poi io ti torno. Cioè, normalmente avete detto ciao, no, ma rivedeteci, andiamo via. Poi voi chiamate, le chiamavate e io sarei tornata. Adesso lo sapete, tanto che funziona così. Non è che le posso fare attaccate. Non si può fare, perché la regola dello spettacolo è questa. Quando un concerto finisce, l'artista va via e poi dopo voi li chiamano. Per cui, insomma, io vado via, ma chiamate voi. Grazie.